Per garantire sicurezza ai cittadini e per coaduivare il lavoro dei uomini e delle donne della polizia locale, il comune di Pordenone si è dotato di quattro steward urbani, che presideranno le aree del centro in coppia o tutti insieme, a seconda delle necessità. Svolgeranno il loro servizio in diversi orari e giorni della settimana, in particolare il mercoledì e il sabato, giorni di mercato, per monitorare, dare indicazioni ai cittadini, presidiare gli accessi, tenere lontano dal mercato chi compie a catonaggio molesto o i venditori abusivi, supportando così la polizia locale. Inoltre, saranno presenti per le vie del centro nei pomeriggi dal venerdì alla domenica e durante manifestazioni ed eventi. Questa amministrazione è attenta a soddisfare uno dei bisogni fondamentali, basilari, dei nostri cittadini, cioè quello della sicurezza. Lo facciamo potenziando la nostra polizia locale, assumendo del personale e dando loro formazione e mezzi idonei. Ma lo facciamo anche andando incontro a quello che è il bisogno di rassicurazione dei nostri cittadini, attraverso il riportare in città il servizio degli steward urbani. Il loro obiettivo sarà quello di stare a fianco della polizia locale, saranno presidio nelle aree verdi, quindi nei parchi, nelle piazze affollate e guarderanno anche in quelli che possono sembrare degli angoli bui. Diciamo che è uno strumento in più messo in campo proprio per stare a fianco dei nostri cittadini e dei commercianti. Avranno un gilet che li farà riconoscere con il logo del Comune di Pordenone, li potete già vedere in giro per le piazze e per le vie e il loro servizio terminerà l'anno prossimo. Quindi una convenzione fatta per un intero anno. I pordenonesi esigono sicurezza e il Comune ha il dovere di dar loro una risposta puntuale. Accanto al lavoro costante del prefetto, del questore, delle forze dell'ordine che ringraziamo, il Comune mette a disposizione due servizi. Uno è il potenziamento della polizia locale, ormai a pieno organico, che non ha più solamente i compiti tradizionali del traffico o della sosta, ma che ormai è direttamente collegata in coordinamento con le forze dell'ordine nel garantire sicurezza. Il secondo è quello degli steward, siamo stati una delle prime amministrazioni locali a mettere in campo queste figure, che significa avere più occhi per monitorare, controllare e avvisare nel caso in cui succeda qualcosa che a Pordenone non deve succedere. L'intervento degli steward urbani è un intervento strategico per il funzionamento del corpo di polizia locale, perché costituisce un appoggio, costituisce una risorsa importante che ci permette di poter specializzare l'attività degli operatori di polizia locale, affidando invece agli steward urbani quell'attività di monitoraggio che non può prescindere dal controllo del territorio, ma che purtroppo assorbe veramente tantissimo tempo.